Alessandro, Domenico e Giuseppe le propongono un giro nelle campagne di Valle Giumara vicino Niscemi. Un luogo dove stare insieme, magari bere una birra, senza il rischio di incontrare persone che potrebbero fare la spia. Per Lorena il breve tragitto verso la valle è la parte migliore della giornata. In quel momento Alessandro la fa sedere dietro di lui e lei può stringergli la vita sottile e proteggersi dal vento appoggiandosi al suo collo. Alessandro la lascia fare, anzi si premura di avvisarla quando la strada è dissestata, cosicché possa stringerlo più forte.